www.mappamundi.it Il rischio abbiamo visto nelle scorse settimane dell'esplosione di un conflitto proprio circa Taiwan. Taiwan nello stesso modo è la capitale mondiale dei chip e dei semiconduttori, quindi abbiamo parlato di come il rischio di un conflitto per Taiwan possa incidere sul mercato internazionale dei chip, già in grave difficoltà come abbiamo visto negli ultimi mesi e negli ultimi anni. La risposta dice come mai in un paese al rischio è così importante dal punto di vista della tecnologia internazionale? La risposta sta in una persona e vedete già la foto che possiamo mostrare, è Morris Chang. E' proprio a lui dedicata questa puntata, parleremo di questo personaggio molto particolare e interessante e ne parliamo con Alessandro Arezzo, consigliere scientifico di Dimas. Ciao Alfonso, felice di essere con voi per parlare di uno degli imprenditori più importanti della storia dell'umanità. Eh sì, perché noi diciamo sempre che i personaggi leader mondiali hanno un ruolo relativo, ma in questo caso bisogna proprio dire che questo uomo ha cambiato un po' il corso sicuramente della storia economica e tecnologica, ma probabilmente anche geopolitica. Maurice Chang è un personaggio davvero dai mille risvolti davvero importante, uno dei personaggi importanti del ventesimo secolo e anche ventunesimo direi. Allora cominciamo, lui è appunto un cinese, nasce nella Cina continentale, poi negli anni trenta studia a Hong Kong e poi a un certo punto va negli Stati Uniti. Questo è collegato a Mao, alla rivoluzione, a tutti quegli sconvolgimenti di quegli anni, siamo appunto a fine anni quaranta? Sì, si trasferisce negli Stati Uniti proprio nel 1949, è nato nel 1931, quindi questo signore ha 91 anni, anche se è ancora piuttosto attivo e si fa sentire molto. Perché insegue un sogno americano all'interno dei grandi luoghi dell'istruzione negli Stati Uniti, quindi va a studiare inizialmente all'università di Harvard. Teniamo conto che lui aveva una passione per la scrittura, ma la sua famiglia gli sconsiglia l'attività giornalistica e gli dice che cerca di fare qualcosa di concreto. All'inizio Hong Kong aveva cominciato a studiare finanza, poi va ad Harvard a studiare delle materie generali, come si fa in genere, all'inizio del curriculum universitario negli Stati Uniti, ma poi ha sempre questo grimaldello, voglio fare qualcosa di concreto e quindi si iscrive a ingegneria, al Massachusetts Institute of Technology. Il famoso MIT che siamo nella fase più niristica dell'informatica. Sì, sicuramente. Tutto ciò poi avviene in degli anni decisivi per l'industria dei semiconduttori negli Stati Uniti, gli anni in cui avvengono delle fondamentali scoperte che valgono anche il premio Nobel ai loro scopritori. Quindi c'è tutta questa genia di inventori, ingegneri, scienziati, imprenditori che andranno a costituire la Silicon Valley, che vuol dire la valle del silicio. E lui entra poi alla Texas Instruments, che forse oggi, soprattutto per i più giovani, non ricorda nulla, ma in quegli anni era un caposaldo, un pilastro dell'informatica e della tecnologia. Sì, allora, la trasformazione è questa, ora, in estrema sintesi, poi a questo tema è anche dedicato un mio libro che uscirà tra qualche settimana. Ma cosa accade all'interno di quell'industria? L'industria nasce sicuramente con un forte impulso governativo e militare, come avviene per tante industrie, ma diventa molto presto un'industria legata all'elettronica di consumo, all'esplosione dell'elettronica di consumo. Noi dobbiamo tenere presente che i semiconduttori sono l'industria più importante al mondo, direi, perché su di esse si basa la tecnologia avanzata. Eseguire calcoli, immagazzinare calcoli è ciò che si fa attraverso l'hardware dei chip. Quindi noi, diciamo, nelle nostre vite attuali non esiste l'informatica, non esiste l'industria automobilistica, non esistono tutte le principali industrie avanzate se non ci sono questi mattoncini. Mattoncini che poi procedono attraverso un'innovazione continua. di cui appunto Morris Chung sarà il protagonista. Per capirci un attimo, i chip sono fondamentali ormai in tutti i settori, ce ne accorgiamo oggi perché collegato al Covid e alle questioni internazionali c'è questo problema di procorciarsi i chip e chi ha ordinato un'auto o una moto oppure qualsiasi altro materiale di bene di consumo deve aspettare tanto tempo, questo è il sintomo proprio dell'importanza. Però appunto, torniamo alla Texas Instruments, siamo appunto nella fase iniziale. La Texas Instruments fa elettronica di consumo, diciamo, in cui divengono sempre più importanti i semiconduttori. Quindi Morris Chung dopo l'MIT va a lavorare prima in un'altra azienda, poi a Texas, e Texas capisce le sue qualità e quindi lui aveva questo cruccio di non essere passato al dottorato dell'MIT inizialmente e Texas sponsorizza il suo dottorato all'Università di Stanford, centro di ricerca e di innovazione fondamentale della California che si espande in quegli anni, quindi Stanford ora può reclamare maggiormente che Morris Chung è uno dei suoi eroi imprenditoriali rispetto alle altre sue università, come abbiamo visto sono Harvard ed MIT. Quindi questo insieme di capacità commerciali e di saper incrociare l'innovazione del settore e poi le capacità di ricerca che ha appreso dai suoi studi diventano fondamentali in questa sua lunga carriera con Texas Instruments che lo porta fino agli anni Ottanta, quindi lui è un protagonista di quest'industria per decenni. E arriva fino a essere vicepresidente, no? Sì, esatto. Perché non diventerà mai presidente? Allora, diciamo, la vita di questo personaggio è anche avvolta un po' dal mito e dalla leggenda come avviene per grandi imprenditori simbolici, quindi quello che si dice è che le sue origini abbiano pesato in questi termini. Non eravamo ancora nel contesto degli Stati Uniti di oggi, direi, forse di oggi non per persone della Repubblica Popolare Cinese, ma basta pensare agli amministratori delegati di aziende tecnologiche di origine indiana oppure di origine di Taiwan. Pensiamo a Lisa Su, che è proprio un amministratore delegato di una grande azienda di semiconduttori. Quindi non gli fanno fare questo salto definitivo e lo portano un po' lontano dai semiconduttori dentro la parte del consumo. Lui non è contento di questo, quindi finisce la sua carriera in Texas, va a lavorare per un'altra azienda che invece lo porta a realizzare una delle cose a cui teneva quando ha iniziato la sua carriera, ovvero avere un bell'ufficio a New York e una bella casa che si trova sulla Trump Tower e quindi racconta che ogni tanto incontrava Donald Trump in ascensore. Non è contento nemmeno di questo perché non ha delle vere responsabilità. Maurice Chang ha poco più di 50 anni, ormai ha messo su un certo gruzzolo e decide di andarsene pure da lì. A quel punto gli arriva una chiamata, una chiamata inaspettata, perché nel 1980 a Taiwan, che non dimentichiamolo, assieme a Hong Kong, la Corea del Sud, una delle cosiddette tigre asiatiche, e quindi partecipa di questo grande sviluppo manifatturiero dell'Asia orientale negli anni 60, 70 e poi 80, che va anche alla produzione di beni di elettronica, cioè la volontà di compiere un salto scientifico e tecnologico. Allora, ti interrompo un attimo perché qui siamo proprio al momento cruciale della grande rivoluzione che ha lui come protagonista, però voglio mostrare appunto, siamo arrivati a Taiwan, appunto questa carta di Limes di Chi è Taiwan, che ci fa vedere appunto al centro del conflitto attuale tra Stati Uniti e Cina, questa appunto Taiwan, l'ex isola di Formosa, così vicina alla Cina continentale, e qui c'è tutta la questione complicata, una sola Cina, concetto che insomma è riconosciuto anche... Tra l'altro scusami, vediamo lo Zhejiang, che è il luogo d'origine di Maurice Chang. E' proprio lì. Però, quindi, questa è la situazione attuale e vediamo anche la carta successiva, vediamo appunto il grande conflitto tra Stati Uniti e Cina che riguarda, in Taiwan il centro, ma che riguarda tutto il mar cinese e meridionale. Però, in questi anni di cui stiamo parlando adesso, la situazione è diversa, perché nel 72 c'è stato il famoso viaggio di Kissinger, l'apertura di Nixon alla Cina, quindi la Cina di fatto, i rapporti con gli Stati Uniti sono relativamente buoni, soprattutto in funzione antisovietica. Anzi, in quegli anni, dal punto di vista economico e tecnologico, il grande nemico è il Giappone. Verissimo, questo è un elemento che noi tendiamo spesso a dimenticare, ma proprio in questo settore, io sostengo che adesso ci troviamo nella seconda guerra dei semiconduttori, perché è stata già combattuta la prima guerra dei semiconduttori tra Stati Uniti e Giappone e questo era appunto derivato dal grande sviluppo manifatturiero giapponese che aveva portato a un dibattito politico e strategico negli Stati Uniti, negli anni 80 è importantissimo. Non dimentichiamoci che George Friedman, che i lettori di Limes conoscono molto bene, e nel 1991 pubblica un libro che si chiama The Coming War with Japan, scritto con la sua moglie Meredith. È un decennio in cui il dibattito è caratterizzato da questo, anche perché i giapponesi, soprattutto in un segmento dei semiconduttori, dei chip, quello che serve per immagazzinare le informazioni, le memorie, che compiono dei salti commerciali, anzitutto, oltre che tecnologici, importantissimi. Quindi le aziende degli Stati Uniti si sentono in particolare difficoltà, tante che ci sono delle mosse molto importanti da parte dell'amministrazione Reagan su questo. Per me questo è molto rilevante perché dà il via a quello che è chiamato capitalismo politico, cioè gli strumenti che gli Stati Uniti usano per il controllo degli investimenti esteri e per le sanzioni. In particolare, le sanzioni esistono già da tempo, ma è il comitato degli Stati Uniti che ha il potere di autorizzare gli investimenti esteri, il SIFIUS, ottiene i suoi poteri proprio a seguito del tentativo di un'acquisizione da parte di Fujitsu, gruppo giapponese, di una storica azienda dei semiconduttori degli Stati Uniti, Fairchild Semiconductor. Quindi hai perfettamente ragione a dire che la questione lì è il Giappone. Cosa Taiwan? È un luogo che produce, sta crescendo molto, produce elettronica in modo importante, ma non è salita nella catena del valore della tecnologia. Io ricordo, tra l'altro in quegli anni diventa anche il cinema, la letteratura americana, vedono il Giappone come un pericolo, ricordo solo sollevante come libro e film, eccetera, va bene. Però ecco, era per dire che Taiwan in quel momento non viene vista, i rapporti con la Cina sono buoni, quelli con il Giappone meno, Taiwan è un'opportunità anche per gli Stati Uniti. Quindi di fatto non viene osteggiata questo trasferimento di Morrison e Chang, che porta il suo cervello, quindi anche la sua tecnologia americana in questa isola. E che cosa succede? Allora, diciamo, il genio di Morrison Chang è anzitutto un genio commerciale. Poi esisteva, detto in estrema sintesi, tagliato un po' con l'accetta, un'industria, un'industria così importante, come abbiamo detto in precedenza, che aveva una struttura ed era organizzata secondo un modello integrato, cioè un modello secondo il quale, diciamo, a parte i vari componenti che sono necessari, perché è una supply chain che era complessa e ora è enormemente complessa, ma c'era, diciamo, una maggiore integrazione tra la progettazione dei chip e la loro produzione. Morris Chang porta una trasformazione fondamentale. Allora, con la globalizzazione, l'Asia orientale sta diventando un luogo di grande rilievo per i processi produttivi, no, un luogo della produzione e della manifattura. Diciamo, questa trasformazione ha portato l'Asia orientale a essere il centro della manifattura mondiale. Morris Chang dice che noi qui a Taiwan non possiamo progettare le cose più avanzate, non possiamo costruire un'industria integrata, ma perché non proviamo a separare maggiormente l'ambito della progettazione e della produzione e diventare i migliori produttori per conto terzi. Cioè io parlerò, pensa Chang, parlerò con i clienti che progetteranno quello che vogliono e diventerò il più bravo a realizzare questi prodotti. Questa è la grande idea, una grande idea commerciale che poi è attuata attraverso una capacità organizzativa, gestionale, di organizzazione del capitale umano che ha pochi uguali nella storia recente. Perché questo trasforma un territorio in un luogo che dall'istruzione all'organizzazione aziendale è concentrato su questi processi e questo significa quello che studi, in particolare quanti ingegneri elettronici riesci a formare, a portare nelle aziende e questi enormi ecosistemi che nascono attorno alle gigantesche strutture produttive dove avviene questo processo. Diciamo sempre con questa attenzione commerciale importantissima. Quindi insomma, poi correggimi se sbaglio, però semplificando molto, inizia quel processo che poi avrà la Cina come protagonista, cioè il trasferimento della produzione in Cina a Taiwan, quindi il simbolo è l'Apple, l'iPhone che viene prodotto in Cina ma viene ideato, è progettato poi invece negli Stati Uniti. Quindi inizia questo percorso, questa strategia economica che avrà poi un impatto enorme sull'economia mondiale. Esatto, se posso correggerti, TSMC, l'azienda fondata da Maurice Chang, è come se fosse il vertice di questa storia della produzione. Noi stiamo parlando della produzione di ciò che è più importante ed è più avanzato e lui dice ok, il design e la progettazione del prodotto non è mia, quindi gli altri, i clienti potranno ricavarne dei vantaggi, ma io attuo delle trasformazioni nella produzione epocali che comunque negano fin dall'inizio quel pregiudizio della fabbrica del mondo rivolta alla Cina che abbiamo visto poi diventare poco attuale. Tu produci robaccia e il TSMC ha fin dall'inizio l'idea e io produco la cosa più importante e la produco in un modo che nessun altro può essere in grado di raggiungere. All'inizio è molto difficile questo. Perché questo richiede grande tecnologia, fattore umano importante, ingegneri, capacità umane. La fiducia delle aziende è una marea di soldi. E ce ne accorgiamo ora che invece i governi e le aziende stanno cercando di rendersi meno dipendenti da Taiwan e quindi c'è tutto un processo inverso per cui si cerca di portare negli Stati Uniti, in Europa, ma anche in altri paesi come l'India la produzione di chip, ma non è così facile proprio perché ci vuole un livello di conoscenze elevato. Quindi la cosa importante è che questa fabbrica del mondo non è a basso costo, non è la produzione a basso costo, ma è un elemento essenziale e fondamentale della tecnologia moderna e dell'economia moderna. E il padre di tutto ciò è Maurice Cianco, questa azienda. Vediamo un attimo questa foto, raccontacela anche tu. Allora, sulla sinistra c'è lui nel 2008, credo, con George W. Bush ha un vertice internazionale dell'organizzazione della cooperazione economica dell'Asia Pacifico, perché Maurice Cianco dal governo di Taiwan viene nominato in questo ruolo ormai da molto tempo, quindi ha un certo ruolo politico. La cosa più importante è poi sulla destra questa foto del trentesimo anniversario della fondazione di TSMC, 1987, dove, insomma, se i nostri lettori e i nostri ascoltatori sono interessati, possono vedersi il video di tre ore che io raccomando caldamente ed è interessante lì, se possiamo rivedere un attimo la foto, sulla... allora, chi sono questi personaggi che sono con Maurice Cianco? Dai, diciamo subito, chi è il giubbotto di pelle? Allora, tu dici giubbotto di pelle, chi è questo, non so, questo cazzone che sta lì? Ci siamo, Jensen Wang, originario di Taiwan, grande, diciamo, protagonista dell'industria dei semiconduttori dalla parte della progettazione, in particolare la progettazione di schede grafiche. Non so se tu e i nostri ascoltatori ricorderanno i videogiochi degli anni 90, io mi ricordavo che hai queste schede grafiche con acceleratori prodotte da NVIDIA, che è la... Ancora oggi è importante. Allora, che cosa ha fatto Jensen Wang, appunto, che ha questo stile scansonato? Diciamo, è stato uno di quelli che negli anni 90 si è avvalso di TSMC, che era già importante, ma ha contribuito alla sua crescita, e poi quella tecnologia che si usava per le schede grafiche viene utilizzata anche per qualcos'altro, per esempio per i più rilevanti, server al mondo, la capacità di supercalcolo. Vi faccio un esempio recente. Avrete probabilmente visto della scoperta da parte di Eni di un giacimento a Cipro molto rilevante. In che modo Eni effettua queste scoperte? Anche attraverso l'integrazione di varie tecniche e tecnologie, ma anche attraverso la capacità di calcolo di questi supercomputer che montano appunto dei prodotti di NVIDIA. Quindi, insomma, stiamo parlando di un'azienda da centinaia di miliardi di capitalizzazione, una storia incredibile che avviene perché progettano qualcosa che viene prodotto poi da Maurice Chang. Sulla sinistra della foto, poi andiamo ovviamente su tutti, c'è il cliente più importante di Maurice Chang. Lui è direttore operativo di Apple, si chiama Jeff Williams, è l'allievo di Tim Cook, l'amministratore delegato di Apple. Lui e Maurice Chang hanno fatto questo accordo epocale per la fornitura di Cip dell'iPhone che ha reso Apple un cliente fondamentale per TSMC, ha reso TSMC di grande rilievo per Apple e per la sua storia recente. Quindi, insomma, basta sbirciare un po' nella storia di questa azienda, di questo personaggio ed effettivamente si scopre questo grandissimo rilievo. attenzione, ciò avviene in una supply chain, e questo va sottolineato, che ha una complessità gigantesca, tant'è che la cosa più importante per i decisori, per le potenze, è anzitutto la conoscenza della supply chain, tema che negli Stati Uniti... In italiano, come possiamo dire, catena del valore, catena della produzione. Della produzione, della fornitura. Allora, perché, diciamo, la produzione di Cip ha bisogno di materiali, ha bisogno di gas, di componenti chimici, ha bisogno di capacità di software e di calcolo precedenti, ha bisogno di macchinari fondamentali che devono eseguire delle operazioni. Questi macchinari, solo alcuni macchinari, in particolare i macchinari più avanzati, che sono prodotti da un'azienda olandese che si chiama ASML, hanno centinaia di fornitori critici. Quindi significa che hanno bisogno di centinaia di aziende che gli danno alcuni componenti. Quindi, questa catena della produzione è, se la vediamo in termini geopolitici, viene utilizzato spesso l'espressione choke points, che come sappiamo è utilizzata da Mann, è molto presente nella geopolitica. Quindi esistono i colli di bottiglia, esistono gli stretti. Di genere sono gli stretti mariti che abbiamo mostrato molto spesso. Abbiamo anche lì alcuni elementi decisivi, fondamentali. Quindi conoscere questi elementi è di grande rilievo. Mentre tagliarli con l'accetta e pensare che qualcosa che ha migliaia di aziende che vi concorrono possa diventare qualcosa con un paio di aziende che fanno un prodotto è estremamente difficile. Ma avere questa conoscenza è determinante. E quando tu sei un grande produttore, integratore di questi processi come TSMC, hai questa conoscenza. E aggiungo una cosa, Taiwan anche in termini culturali e di informazione ha questa conoscenza. Allora, ti interrompo un attimo per ricordare che tu appunto sta per uscire il tuo libro proprio su questo, su play chain, su catene, del valore della produzione, chip e semiconduttori. Scriverai anche su Limes ovviamente, quindi ti invito sempre a leggere Limes. E chi volesse ancora appunto approfittare della guerra grande, vedete la copertina del volume che è ancora in edicola e in libreria, ancora per poco. Quindi chi è tornato dalle vacanze e non l'ha potuto trovare subito e prendere subito lo può ancora trovare in libreria e in edicola, ma anche online per gli abbonati. Perché tra poco arriverà il volume che state vedendo, la copertina, il mare italiano e la guerra, che sarà al centro del festival delle giornate del mare di Trieste, appunto 18 e 19 settembre. Quindi ci sarà la diretta sul canale YouTube di Limes, anche su Repubblica e la stampa. E quindi l'invito poi è a seguire il festival. Ma è ovviamente a comprare il tuo libro, quando uscirà poi magari ci diricheremo una trasmissione ad hoc. Allora, torniamo a Taiwan. Ma torniamo un attimo al momento storico. Quindi è tornato, ha creato questa rivoluzione, però poi abbiamo visto non solo una rivoluzione tecnologica e economica, ma anche lui è un personaggio di rilevo politico, parla con Bush, partecipa all'APEC. Se un cittadino di Taiwan lo incontra per strada un po' si commuove. È un personaggio di peso. Quindi entriamo però nell'ultima fase. A un certo punto però quella fase geopolitica e politica cambia. La Cina diventa un gran concorrente degli Stati Uniti, prima economico, adesso anche politico e geopolitico. Il Giappone da nemico degli Stati Uniti in campo tecnologico ora diventa un asset fondamentale degli Stati Uniti in funzione anticinese. Taiwan si trova al centro, in realtà ci sono stati poi contrasti con la Cina anche in precedenza, ma oggi è al centro di questo grande conflitto. Quindi che succede a questa capitale mondiale del CIP e cosa fa in questi anni Morris Chang? Cerca di contrastare questa tendenza, l'accompagna? Io direi in che mondo vuole vivere Morris Chang? Morris Chang vuole vivere negli scorsi decenni, nel mondo dei primi momenti di questo secolo, in cui vale il prodotto, il mio è il prodotto migliore, ottengo maggiori performance, riesco a fare maggiori innovazioni, ho questa capacità di dirigere la catena della produzione, la fiducia dei miei clienti, andiamo avanti così. I clienti possono essere ovunque, per esempio clienti cinesi, un'azienda che era diventata estremamente rilevante per TSMC si chiama Huawei. Allora che cosa scopre Morris Chang? Che secondo la sua stessa affermazione il libero commercio ha delle condizioni, ha delle condizioni di sicurezza, ha delle condizioni geopolitiche, in particolare nello sguardo degli Stati Uniti. Quindi i controlli delle esportazioni e le sanzioni che vengono applicate alle imprese cinesi contrastano con questa idea. L'idea forte di TSMC, che è stata anche recentemente ribadita dall'attuale presidente, che si chiama Mark Liu, è in un raro intervento alla CNN nella trasmissione di Farid Zakaria. È un bene per il mondo che noi abbiamo questi clienti in Cina che comprano i nostri prodotti, li teniamo dentro un discorso comune. La prospettiva degli Stati Uniti è diversa. Ora, non dobbiamo pensare che sulla base del discorso che facevo in precedenza gli Stati Uniti siano totalmente ingenui, o meglio, non sono tutti naturalmente negli apparati degli Stati Uniti degli esperti di semiconduttori, ma possono avvalersi di delle consulenze scientifiche e di ricerche imprenditoriali, di persone che gli spiengano come funziona questa filiera. Quindi non è che gli Stati Uniti abbiano l'idea di ci facciamo le cose tutte da soli, però c'è una doppia esigenza, un'esigenza di riequilibrio rispetto al grande potere manifatturiero dell'Asia orientale, dove c'è il problema di Taiwan. Ma attenzione che quello che Morris Chang ha sempre considerato il suo concorrente più temibile è Samsung, il grande conglomerato tecnologico della Corea del Sud. E quindi fare più cose in ottica anzitutto statunitense e poi anche transatlantica, perché si potrebbe parlare a lungo del ruolo dell'Europa, non facciamolo in questo contesto, ma c'è in ogni caso questa idea. La seconda cosa, l'aspetto fondamentale è che la Repubblica Popolare Cinese ha dichiarato da tempo, Made in China 2025, delle cose su cui spesso con Giorgio e altri si è discusso sulle pagine di Limes e in questo canale, delle ambizioni di maggiore innovazione autonoma e autosufficienza tecnologica nell'ambito dei cini. Le ha pure dichiarate, cosa non particolarmente intelligente, perché come sapete la dottrina di Deng Xiaoping era un po' diversa, tieniti le cose per te, vai a testa bassa, invece diventeremo autosufficienti nei semiconduttori, produrremo semiconduttori avanzati, facciamo la serie TV per spiegare quanto sono belli i semiconduttori, è il partito che chiama le aziende direi mettetevi a fare semiconduttori, gli Stati Uniti vogliono che questo obiettivo non venga raggiunto, sono disposti a fare quasi qualunque cosa per arrivarci, per varie ragioni, io direi che c'è anzitutto un tema di primato tecnologico generale e anche di capacità di servire alcune industrie, in alcuni casi industrie dove i cinesi hanno la leadership, come per esempio la filiera della mobilità elettrica, in prospettiva ovviamente l'intelligenza artificiale, quindi c'è il grande disegno strategico, cozza, il grande disegno strategico fatto da chi ha la strategia, gli Stati Uniti, cozza con la perfetta realizzazione della globalizzazione da parte di Morisciani. La globalizzazione insomma va bene finché funziona da interessi americani, quando non lo è a un certo punto interviengono gli Stati Uniti. Esatto, ci sono delle condizioni, ora diciamo nessuno ovviamente, questi progetti sono entrambi un po' spuri, perché poi abbiamo citato il tema dell'organizzazione, della gestione delle aziende, del capitale umano, lì ci sono delle condizioni che diciamo coi quali anche i progetti strategici devono fare i conti delle condizioni economiche, cioè se tu non hai gli ingegneri elettronici, ovviamente invito tutti i nostri ascoltatori a studiare ingegneria elettronica, anche elettrochimica, perché sono professioni importantissime, e se tu non hai questa capacità di formare talenti, tu puoi anche avere il progetto del governo in generale, ma magari non lo realizzerai, e devi avere questa straordinaria mentalità commerciale che Morisciani ha portato nell'industria, e visto che l'industria si fonda su tutti questi partner, di capacità di parlare coi partner e coi clienti, quindi Morisciani non è stupido, quindi sa che esiste questo progetto strategico, sa che deve considerare maggiormente il rischio geopolitico, però dice questa cosa non arriverà all'estremo, non avremo la guerra su Taiwan, ovviamente se hai la guerra su Taiwan tanto vale non parlare nemmeno di questa cosa, dice non arriveremo a quel punto e ci saranno sempre delle condizioni economiche, commerciali, gestionali di capitale umano che devono essere affrontate, in ogni caso anche dagli attori geopolitici, che non possono vivere come se queste cose non esistessero, perché a un certo punto queste aziende devono presentare i loro conti, lui dirà i miei conti saranno in ogni caso migliori, noi andremo avanti così, e poi un po' si coprono rispetto a questa cosa, per esempio TSMC ha annunciato dei progetti in Giappone, la storia del Giappone è molto interessante perché Giappone perde la prima guerra dei semiconduttori e continua ad avere alcuni segmenti, per esempio alcuni macchinari che non sono ora al vertice mondiale, dove ci sono invece gli olandesi in particolare per la litografia ultravioletta estrema, che serve per fabbricare i chip più avanzati, ma comunque queste aziende ci sono, hanno un rilevo, c'è un ecosistema interessante, ci sono delle aziende giapponesi, non so come Sony e Denso, con cui TSMC può fare delle partnership, quindi questo diventa anche un tema tecnologico barra strategico della cooperazione tra paesi dell'Asia orientale, dove come sappiamo poi ci sono profondi nemicizie anche tra queste grandi potenze fattorie tecnologiche, immaginati i giapponesi e i coreani che fanno insieme il grande progetto, è difficile da pensare e quindi siamo nel mezzo di questa equazione dove da una parte avvengono le spinte sul piano strategico, poi rimangono sempre gli aspetti economici e mentre c'è questa affascinante, bellissima storia di un'industria che è in mattoncini della nostra tecnologia avanzata e continua ad andare avanti poi attraverso fondi pubblici, attraverso dei programmi di ricerca privata per essere sempre più miniaturizzata, sempre più precisa, diciamo ormai si sta avvicinando sempre di più ai confini delle leggi della fisica, quello che è avvenuto in particolare in questo secolo e lui continua ad osservare questo processo e a dire la sua sugli aspetti strategici che a suo avviso non sono appropriati, ovviamente parlando prodomo sua. Quindi insomma in conclusione sarà difficile scalzare Taiwan e Morris Chang da questo ruolo importante che hanno, insomma ci vorrà molto tempo nonostante la volontà dei governi perché come ci hai spiegato tu insomma parliamo di questioni molto complicate. E lui allo stesso tempo dovrà un po' cambiare se vuole mantenere, non può avere una rigidità nei termini della vecchia globalizzazione. Comunque la difesa di Taiwan dipende dagli Stati Uniti quindi potranno fino a un certo punto diciamo opporsi. E allora io vi rimando, avete capito, la questione è molto complicata, vi rimando quindi al libro di Alessandro Aresu, il prossimo Luminimes e magari anche altre nostre trasmissioni proprio per capire meglio questa questione. Alessandro io ti ringrazio ancora e vi do appuntamento alle prossime trasmissioni sul canale. Grazie mille Alfonso. Grazie a tutti.